Sono stati inaugurati il 28 luglio nuovi reparti di medicina interna e nefrologia e dialisi nell'ospedale Carlo Urbani. Nuovi e confortevoli gli arredi in una struttura all'avanguardia capace di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini. I primari, il dottore Paolo Agostinelli ed il dottore Stefano Santarelli, hanno salutato con soddisfazione questa inaugurazione che dimostra il desiderio di miglioramento di tutta la struttura. La medicina interna è stata trasferita dal vecchio ospedale di Viale della Vittoria ed ha tre moduli di 20 posti letto ciascuno, autonomi tra loro e con diversi indirizzi clinici, oltre a 5 ambulatori. Nefrologia e dialisi dispone di 18 posti dialisi e 4 posti degenza. I reparti saranno operativi al più presto. A questa quarta inaugurazione del 2011, dopo la risonanza magnetica aperta, il centro di salute mentale, la TAC e la macchina digitale con tavolo telecomandato, hanno preso parti i vertici dell'azienda sanitaria regionale e della zona di Iesi, il sindaco di Iesi e i primi cittadini della Vallesina, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di volontariato.